Stada Davide Casaleggio, ai nostri microfoni la diffidenza del capo dell'Associazione Rousseau verso chi sia appresta a prendere le redini è evidente. In quali battaglie si riconosce tra quelle portate avanti da Conte a capo del Movimento? Fino adesso Conte in qualità di Primo Ministro alla fine ha fatto da mediatore tra diverse forze politiche e non penso si sia mai intestato nessuna battaglia politica personalmente neanche fosse del Movimento, della Lega o del PD. Vedremo quali sono le sue proposte e da lì potrò capire se condividerle. Il figlio del fondatore non è oggi né un demolitore né arroccato sui no ma è chiaro che vuole andare a vedere le carte degli avversari. Così il muro alla richiesta avanzata da Giuseppe Conte e dal reggente Crimi sulla cessione degli iscritti si trasforma ora in una cauta apertura a quel rappresentante legale è nominato dal Tribunale di Cagliari che ha presentato richiesta a Rousseau per avere la lista e far votare come da statuto l'organo collegiale. Dobbiamo capire quali sono i suoi poteri e adesso approfondiremo questa questione. La proprietà dei dati è sempre in carico al singolo iscritto per cui sono i singoli iscritti che devono essere poi coinvolti e con il loro consenso si farà quello che è necessario fare. Sareste disposti anche a far votare l'organo collegiale? Ma approfondiremo tutte le richieste. Ovviamente noi siamo sempre stati di supporto al Movimento 5 Stelle e lo saremo anche in futuro. Non nasconde l'amarezza per un movimento che sente ancora casa sua ma in cui vede a rischio il concetto di partecipazione come la intendeva suo padre. Quella fuori dai palazzi, quella che nel 2018 grazie a Rousseau nell'arco di un anno spiega Casaleggio ha permesso di far discutere migliaia di persone dentro e fuori la rete. I principi sui quali io e mio padre abbiamo costruito questo progetto che sono principi di partecipazione dal basso in cui tutte le scelte importanti, che sia la creazione di una lista piuttosto che le sue alleanze, il programma e tutte le decisioni importanti all'interno del Movimento 5 Stelle sono basate sugli iscritti. Se questi principi fossero disconosciuti ovviamente non si parlerebbe di un'evoluzione del Movimento 5 Stelle ma si tratterebbe della fondazione di un partito nuovo come ce ne sono stati tanti nella Repubblica.